Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. C'è la pagina dell'economia in apertura e il decreto Cresci Italia del governo Monti ha escluso Pescara dalle zone franche urbane con sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese del territorio. Alla Tg Max abbiamo raccolto le considerazioni dei rappresentanti di categoria. Il governo Monti con decisione dello scorso 4 ottobre all'interno del cosiddetto decreto Crescita ha reintrodotto le zone franche che potranno beneficiare di considerevoli sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che operano in quei territori. Pescara che nel 2006 era stata inserita tra queste aree è invece stata esclusa dal recente decreto perché non è parte di una delle regioni che l'Europa considera in obiettivo convergenza quindi inconsiderevole ritardo di sviluppo. Deluse al momento le aspettative delle organizzazioni di categoria che tuttavia esprimono ottimismo su un possibile ripensamento del governo purché Comune e Regione mettano in campo le opportune iniziative. Cosa rischiano di perdere le imprese di Pescara? Queste le considerazioni di alcuni autorevoli rappresentanti di categoria cominciamo da Umberto Coccia della Cisla. A questo punto sui costi fissi che aumentano, la pressione fiscale che aumenta la zona franco-urbana poteva essere e può essere secondo noi una soluzione piuttosto importante. Questa è una stima del presidente di Confindustria Pescara Enrico Marramiero su quello che la città potrebbe perdere. Possiamo fare un numero preciso perché le risorse che potevano essere destinate a Pescara sono di circa 6 milioni di euro. Considerando anche un effetto moltiplicatore, logicamente il danno è considerevole. Il direttore generale di Confindustria Pescara Luigi Rigiosaffatte ed il presidente della Camera di Commercio Daniele Becci lanciano un appello a Comune e Regione. Il viceministro Barca ha già ritenuto che in 60 giorni l'individuazione di nuove zone franco-urbane che non superano aiuti in regime di de minimis si possono concretamente realizzare. Noi chiediamo al Comune di Pescara, che se ne faccia carico dal punto di vista delle operazioni amministrative, che chieda alla Regione un intervento forte. Non comprendiamo il momento assolutamente. Sappiamo che in questa prima fase Pescara è stata esclusa dai fondi, però nella riconversione del decreto noi ci auguriamo che la nostra classe politica sia in grado di incidere e far ritornare la nostra città, che ha necessità assoluta di finanziamenti, farla ritornare al centro di queste iniziative. Concludiamo con la riflessione di Carmine Salce, direttore di CNA Pescara. Noi riteniamo che con una riprogrammazione dei fondi comunitari veloce e snella si possa riuscire in sede di conversione a ricomprendere anche Pescara e quindi a dare la possibilità a questa zona di usufruire di queste risorse che ammontano a circa 300 milioni di euro che potrebbero le imprese utilizzare per sgravi contributivi e fiscali che in questo momento sono veramente pesanti e pesano anche sullo sviluppo e sulla tenuta delle imprese. La cronaca e i carabinieri della stazione di Montesilvano hanno arrestato per maltrattamento in famiglia un pensionato di 55 anni del posto su disposizione del GIP del Tribunale di Pescara. Nei mesi scorsi l'uomo era stato già sottoposto alla misura dell'allontanamento dalla casa familiare a causa dei problemi con la moglie dalla quale si sta separando. Nonostante il provvedimento, l'uomo è tornato più volte a casa dove vive la donna, ingiuriandola e minacciandola di morte. La donna allora si è rivolta ai carabinieri che hanno eseguito una serie di accertamenti riferito alla procura. Per lui quindi è stato disposto l'arresto ed è finito in carcere. La viabilità a tre rotatorie saranno realizzate a Chieti in altrettanti punti strategici a Brecciarola, al Foro Boario e sulla ex Statale 5, il servizio. Rientra fra le azioni prioritarie del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale l'intervento per la realizzazione di tre rotatorie nel Comune di Chieti per una spesa di 450 mila euro. La prima sarà realizzata a località Brecciarola, all'altezza del bivio di Via Per Popoli, una zona soggetta ad un intenso traffico veicolare e ad elevato rischio di incidentalità. La seconda sarà realizzata lungo la Statale 81 e località Foro Boario in corrispondenza dell'innesto con l'asse attrezzato e dell'ingresso alla nuova sede della Camera di Commercio. L'ultima sorgerà lungo la ex Statale 5, all'altezza dell'impianto di golf di Brecciarola. Ad illustrare il progetto Sicuri in città l'assessore lavori pubblici Mario Colantonio. La realizzazione delle tre rotatorie, ha detto, avrà soprattutto lo scopo di ridurre la velocità da parte dei veicoli e di migliorare la sicurezza delle intersezioni. I tempi, se la stagione sarà mite, tutti e tre questi rondò saranno pronti per il giugno 2013. Questo inizia oggi, potrebbe finire anche tra due mesi se siamo fortunati ed è perfettamente funzionante. Se ciò non avviene, se la stagione sarà un po' meno mite, si protrarrà durante il periodo estivo, ma comunque si portano, entreranno entro il primo semestre 2013, tutti e tre i rondò programmati saranno ultimati. Il sindaco di Loreto a Prutino, Remo Giovannetti, ha presentato le dimissioni. Eletto a marzo 2010 con una coalizione composta da Partito Democratico, Italia dei Valori e Rifondazione Comunista, Giovannetti ha deciso di dimettersi al culmine di una crisi amministrativa iniziata a febbraio scorso con le dimissioni di un assessore di Bù. I problemi comunque c'erano stati fin dal giorno dell'insediamento quando Rifondazione Comunista decise di passare all'opposizione. La pagina del calcio, l'Under 21, torna a Pescara per la qualificazione agli europei. Il coordinatore tecnico, Enrico Sacchi, dice sarà una partita importante con la Svezia, dentro o fuori. E poi commenti anche sul Pescara in Serie A. Sentiamo. Enrico Sacchi a Pescara per presentare il confronto tra Italia e Svezia che venerdì 12 ottobre alle 21 si disputerà all'Adriatico Cornacchia. Match di andata dei play-off per la qualificazione agli europei Under 21 che si disputeranno il prossimo giugno in Israele. Enrico Sacchi, oggi supervisore delle nazionali giovanili, così presenta il confronto di venerdì. Giochiamo una partita importante, su quelle partite dentro o fuori, dove per arrivare all'europeo dobbiamo battere la Svezia. Spero che venerdì ci sia tanto pubblico, perché ne abbiamo bisogno, ne hanno bisogno questi ragazzi e lo meritano. È veramente un gruppo non solo di giocatori bravi, ma di professionisti bravi che fanno le cose al massimo delle loro capacità. Quindi meritano un grande pubblico in un paese dove non tutti sempre fanno le cose al massimo delle proprie capacità. Sull'Italia calcistica continua purtroppo a gravare il peso del calcio scommesse e da Enrico Sacchi così si esprime quando gli viene chiesta un'opinione sulle dichiarazioni del campo della polizia Manganelli, che non esclude altri clamorosi sviluppi. Viviamo in un paese dove non ci dobbiamo più meravigliare di queste cose, visto che sono l'ordine del giorno in tutti i settori. Quindi anche il calcio in parte, però non dobbiamo neanche fare del colunquismo, non dobbiamo pensare che siano tutti disonesti, che non è così. Mi aspetto e spero che in futuro tutti quanti stiamo più attenti a rispettare le regole, ma questo non vale solo per il calcio, vale nella vita politica e sociale di questo paese. Inevitabile chiedere ad un personaggio di così grande capacità e esperienza anche di esprimere un giudizio sul Pescara, impegnato in un difficile ruolo di neopromossa in questo campionato di Serie A. Io credo che il Pescara sa che giocando in Serie A sarà un campionato dove dovrà lottare all'estremo delle proprie forze. Io sono convinto che lo possa fare. Ha un allenatore giovane con molte idee, è capace. Anche qui l'apporto del pubblico può essere decisivo per il raggiungimento di un obiettivo non semplice se si considera che la Pescara è appena salita in Serie A e ha perso tanti giocatori che sono stati degli autentici autori di questa promozione. A Lanciano la Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli ha espresso parere negativo sulla riapertura del Biondi. Ancora una volta quindi la Virtus giocherà a Pescara. Sarà ancora l'adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara l'impianto virtussino col sogno di giocare finalmente al Biondi che si è infranto stamattina. Lo ha deciso la Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli dopo il sopralluogo allo stadio ritenuto ancora non a norma. Tanti curiosi che dalle 10.30 orario della riunione hanno affollato lo spazio antistante l'impianto sperando in una fumata bianca. Invece pollice verso. La Commissione presieduta dal Presidente Dandolo è stata accompagnata dal Sindaco Mario Pupillo e dall'assessore ai lavori pubblici di Naccio dalla dirigente di pubblica sicurezza dottoressa Basilico. Le criticità maggiori sono state costituite dall'ampliamento della via di fuga delle tribune e dalle scale laterali di emergenza che il Comune si è impegnato a portare a termine entro il 14 ottobre. Il 16 martedì prossimo ci sarà un nuovo sopralluogo e anche in questo caso dovrà essere tutto a norma per poter giocare sabato 20 contro Lempoli altrimenti nuovo rinvio. l'assessore ai lavori pubblici Antonio Di Naccio. Quindi assessore, parere negativo? Nel momento sì. Cioè rinviata poi a sabato, no? Si sta puntando a una prossima riunione con la Commissione entro martedì per valutare il prossimo... Il turno successivo? Il turno successivo. Quali non sono stati requisiti rispettati? No, per loro volevano i lavori completamente finiti puliti diciamo nel dettaglio chiaramente. Quindi non sono basate le assicurazioni di procedere in queste ulteriori... Andiamo avanti con i lavori cercando di accelerare come stiamo facendo e con la speranza di portarli quindi a un termine nell'arco di qualche giorno che loro vogliono vedere i lavori completamente terminati. Martedì dovrà essere tutto terminato altrimenti anche per il turno successivo si creerebbe lo stesso problema. Ce la mettiamo tutta, dai. Spera speranza. La pazienza ancora per questo turno a tutti i tifosi lanciati. Purtroppo sì, mi dispiace. Ce la stiamo mettendo tutta. E per il calcio giocato nel primo scontro salvezza della stagione nel match con la Pro Vercelli i rossoneri dovranno solo vincere. Gautieri potrà contare su Bastola e Fofanà e potrebbe esserci anche Almici. Avanti a testa bassa senza rimuginare su ciò che è stato la sconfitta di Brescia non sembra aver lasciato strascichi con i rossoneri pronti ora a conquistare la prima vittoria interna stagionale nonostante ancora una volta si giochi a Pescara in un fattore casalingo dunque molto ma molto flebile. La sfida ha già il sapore dello scontro salvezza con la Pro Vercelli di Braghin che si gioca la credibilità finora sempre sconfitta in trasferta. Gautieri recupererà Fofanà e Bastola Almici ancora dolorante alle costole potrebbe esserci in estremis peccato per Paghera squalificato. Antonio Quilanti, sentiamo. Ecco, meno mordente rispetto ad altre apparizioni in trasferta. C'è da dire che abbiamo affrontato una grande squadra però noi probabilmente abbiamo giocato troppo bassi troppo nella nostra meta a campo e quindi abbiamo aiutato loro a far uscire le loro qualità quindi più coraggio e più propositività. Ecco, sul secondo gol c'era fallo su Aquilani? No, a parte il fallo lì dovevo scappare un attimo prima ero messo male con il corpo però è capitato, la prossima volta non deve capitare. E adesso tre punti con la Pro Vercelli assolutamente servono come il pane? Servono come il pane ma qualora non dovessero venire non dobbiamo farne un dramma dobbiamo rimanere sempre equilibrati sempre uniti con la piazza perché solo così possiamo raggiungere la salvezza. E in considerazione degli ulteriori disagi procurati dalla quinta trasferta a Pescara la società ha deciso una riduzione dei prezzi per i settori tribuna laterale e distinti settori riservati ai tifosi locali messi in vendita rispettivamente a 13,80 euro più diritti di prevendita e 8,80 euro più diritti di prevendita ovvio che il club spera in una presenza massiccia di popolo rosso-nero l'occasione ne vale la pena. La pagina degli spettacoli un pubblico generoso di applausi ha accolto ieri sera al Teatro Fenaroli il jazz degli Italian Hot Five vediamo Il pubblico del Teatro Fenaroli ha accolto con calorosi applausi gli Italian Hot Five di Fabrizio Bosso, Gianluca Galvani Luca Mannuzza, Renato Gattone e Gianluca Perasole. Il concerto, recuperato dopo il rinvio causa maltempo del 19 settembre scorso era il primo dei due in programma all'interno del Festival Jazz tradizionale Città di Lanciano giunto quest'anno alla terza edizione. La ritmica solida e dal groove intenso di Luca Mannuzza al pianoforte Renato Gattone al contrabbasso e Gianluca Perasole alla batteria ha accompagnato il duetto di Gianluca Galvani alla cornetta e Fabrizio Bosso alla tromba ripercorrendo gli anni d'oro del jazz e riproponendo lo stile inconfondibile di Louis Armstrong e George Gershwin con brani come Tratting With Some Barbecue e Lady Be Good e anche After You've Gone portato al successo da Benny Goodman. Il quintetto è stato formato appositamente per il Festival dal direttore artistico Gattone un progetto in anteprima nazionale che ha visto a confronto la cornetta allo stile New Orleans di Galvani con la tromba allo stile bebop di Bosso esperimento riuscito con ovazione del pubblico al bis per la street parade sorpresa dei due solisti in platea con un classico del jazz di San Antonio e invece di Dianne Grazie a tutti. Grazie a tutti.